Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con la nostra rubrica Dito Remiliano. In studio il consigliere delegato per la mobilità del comune di Bari, Antonio De Caro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Reduce da un consiglio regionale travagliato? Sì, un consiglio regionale lungo che ha approvato una legge di cui parleremo in questa puntata. Abbiamo tenuto due mesi in piedi. Ricordiamo che Antonio De Caro è anche capogruppo del PD alla Regione Puglia. 080 501 9998 per intervenire in diretta con noi oppure potete scriverci una mail all'indirizzo dilloemiliano.it. Partiamo dalla setta attualità. La notizia del sistema di telecamere contro le doppie file. Street Control c'è un bilancio che ci parla evidentemente di una rivoluzione per quanto riguarda il traffico che probabilmente sta dando degli ottimi risultati. Il comandante della Polizia Municipale parla di poche contravvenzioni, quindi circa 50 al giorno, ma una riduzione drastica della doppia fila. Mi ha parlato l'altro giorno del 70% di riduzione di doppia fila nelle zone in cui c'è l'avviso uno o due giorni prima dei controlli con lo Street Control. È un sistema che funziona negli altri città d'Italia, ricordo di averlo visto a Bologna, a Roma e anche a Milano già da qualche anno. Funge da deterrente, non fa tante multe però serve come deterrente per evitare che la macchina venga messa in doppia fila. È stato annunciato però che il sistema di Street Control entrerà in funzione anche nel sabato sera, insomma nelle notti della movida locale. Questo non lo so, io non lo gestisco diretta, non sono gli uffici del traffico di Bari, quindi quelli per i quali ho la delega che seguono direttamente lo Street Control. Quello che posso dire è che la doppia fila sull'itinerario di scorrimento, non tanto sulle strade residenziali, su quelle interzonali, su quelle di quartiere, ma sull'itinerario di scorrimento, la doppia fila crea dei danni al traffico abbastanza elevati. Per fare un esempio, una macchina in doppia fila su una doppia corsia riduce la carreggiata stradale alla metà e quindi raddoppia la coda. Basta soltanto una macchina per pochi minuti per raddoppiare la coda sull'itinerario di scorrimento perché viene parzializzata la carreggiata stradale. Quindi credo che lo Street Control almeno sull'itinerario di scorrimento possa servire a fluidificare il traffico in città. Abbiamo la prima telefonata, pronto? Dottor De Caro, buonasera. Buonasera. Dottore, io volevo chiedere qualcosa, c'è il mercato di Montegrappa che si rimanda da 4 o 5 volte. Ora addirittura pare che sia pronto, ma non si parla di inaugurazione, non si parla di nulla. Perfetto, lo ringraziamo. Ovviamente il telespettatore si riferisce al trasferimento del mercato di Montegrappa, ci sono all'ex Palmiotto. Ricordiamo che sono stati un po' di ritardi perché è stata adeguata la struttura con dei tetti in plexigas. La copertura, sì, quando è stato appaltata l'opera il progetto prevedeva l'importo complessivo, l'importo per il quale era finanziato il mercato non riusciva a coprire, se mi passate il termine, le spese per la copertura. E quindi dal ribasso d'asta, quei fondi del ribasso sono stati utilizzati per la copertura in plexiglass, è stata fatta una variante in corso d'opera al lavoro e le coperture sono state montate. Ci vorrà, credo, un altro mese di tempo, però siamo arrivati per quest'estate, sicuramente il trasferimento del mercato arriverà subito dopo Pasqua. Penso che i tempi sono maturi. Credo per i primi di maggio è stata annunciata l'apertura. I tempi sono maturi, stanno realizzando anche una piccola area a parcheggio, diciamo, prospicente via Modugno, quindi dedicata al mercato, ci saranno circa 70 posti auto, va bene così. Ce ne vorrà qualcun altro, speriamo, nell'area limitrofa che i privati presentino a breve un accordo di programma, un project financing di cui ci hanno parlato dagli uffici dell'urbanistica, in modo da ampliare le zone di parcheggio, perché anche qui per tornare all'itinerario di scorrimento ho paura che su via Giovanni XXIII la sosta irregolare possa creare dei problemi su quello che è un asse di scorrimento. Però, ripeto, rispetto alla situazione attuale dove l'ubicazione del mercato a via Montegrappa praticamente blocca, congestiona un altro asse di scorrimento che è via Giulio Petroni, penso che la situazione migliorerà non solo dal punto di vista igienico-sanitario, non solo dal punto di vista della comodità per chi deve fare gli acquisti con lo spostamento del mercato, ma anche dal punto di vista del traffico la situazione migliorerà decisamente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno a tutti, a tutti quanti di Telebari e anche al dottor Con, non so come si chiama di nome, come è? Antonio De Caro. Ah, Antonio De Caro, scusate. No, 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 sei sicuri. Sì, i problemi a Bari sono tanti, cioè l'inciviltà. Io vorrei elencarne due. Uno, che non ci sono delle strutture. E questo Bari, per i ragazzi che vogliono socializzare, vogliono stare insieme agli altri, non ci sono delle strutture. Uno. Due, che il giardino di San Pasquale, che io vivo proprio al quartiere San Pasquale, non interessa a nessuno, viene maltrattato da ragazzini, da bulli, vanno a fare i cavoli loro. Assolutamente non c'è pulizia in questo giardino, sporcizia a non finire. E poi comunque, ragazzi che fanno atti vandali, c'è troppo vandalismo, c'è troppo vandalismo. Il vandalismo è aumentato, il macello del traffico, tutto quanto. E' da elencare, tutto da elencare. Problemi della, scusate, problemi anche delle associazioni. Non ci sono delle associazioni per i giovani, il ragazzo non sa dove andare. E ripeto, anche questo giardino di San Pasquale, che ci deve essere un custode, lì all'interno del giardinetto di San Pasquale. Ma il giardino che prende il nome di Villa Camomilla, per caso, è quello che sta di fronte alla chiesetta? No, giardino di San Pasquale, quello dove sta di fronte a Unicredit Banca. San Pasquale, praticamente la zona, che ne devo dire, è quello che vende il computer, Bluepoint, dritto, giri e c'è il giardinetto. Di fronte c'è la chiesa di San Pasquale. La chiesa di San Pasquale, ok. E quello si chiama Villa Camomilla. Ah, Villa Camomilla, ok, scusate. E quindi, cioè, io vorrei stare ore e ore a parlare. C'è veramente, ci sono problemi veramente grossi a Bari. Io sto avendo problemi al che io non so neanche dove andare. Cioè, me ne vorrei andare proprio al nord. Cioè, proprio c'è a Bari, proprio sono Conte, non c'è De Caro, scusate. Non c'è proprio niente. Non c'è proprio niente. Assolutamente niente. Cioè, è da elencare, tutto da elencare. Ci vorrebbe uno spazio, una trasmissione intera. Noi purtroppo abbiamo soltanto 45 minuti. Io posso ascoltare, però loro ci danno solo 45 minuti di tempo. E poi io vorrei volare, però è stato chiarissimo sicuramente nell'esposizione delle criticità che ha sollevato. Intanto la ringraziamo per il suo intervento. Beh, ovviamente il telespettatore ha puntato l'indice contro una mancanza di senso civico su questo ha assolutamente ragione, su un disagio giovanile che però purtroppo non è dovuto soltanto, credo, all'assenza di struttura. Non per niente c'è stata anche una fotografia sulla base di un'indagine effettuata dell'ufficio scolastico regionale che ha sottolineato come il disagio giovanile dipenda probabilmente anche dall'assenza di una famiglia. Sicuramente stiamo avendo un momento non proprio difficile, si vengono scardinati i principi basilari della famiglia.